ecco qua ragazzi che sto vedendo gli step super su youtube e vi faccio vedere che ho stampato il modellino di valentino in papercraft eccolo qua che adesso andremo a costruire così ho il modellino di valentino ed ecco che intanto ragazzi la costruzione di valentino sta procedendo ecco qua la cabina qui abbiamo tutto il resto direi che questo modellino papercraft sta avvenendo bene ragazzi questo lato ragazzi di valentino è completato finalmente ho messo qui i serbatochi adesso non mi resta far altro di mettere una ruta qui e questo lato di valentino è tutto completato poi non ci resta far altro che andare a mettere la parte davanti della targa qui dietro ho già messo anche questa qui poi non ci resta far altro che andare a fare questa parte qua e la parte di sopra e avremo completato il nostro valentino ragazzi ok ragazzi e questa parte è completa lo abbiamo aggiunto tutto rimango qui questa parte del nuovo step super costruisce il tuo valentino e devo far stampare altre due pezzi fogli di ruote e in più questa parte qui che l'ho sbagliata ad incollare che l'ho messo al rovescio le finestre andavano sopra e io per sbaglio l'ho messo di sotto quindi faccio stampare quella parte lì in poche parole ragazzi il valentino è quasi terminato guardate qui il modellino dei nostri step super ragazzi bellissimo ecco che si continua valentino sto facendo la parte di sinistra ho messo la ruota in sorbatoio così in modo tale che ci portiamo avanti verso la fine di valentino qua manca ancora la parte della targa qui il lato destro è tutto completo come potete vedere e comunque ragazzi siamo a buon punto per la costruzione di valentino ed ecco qua ragazzi che ho finito il valentino degli steps over ecco qua portato al termine tutti gli accessori sopra la cabina fantastico modellino paper craft ecco qua ragazzi tutto completo nei suoi minimi dettagli la parte davanti e qui il laterale e niente ragazzi metti un piaccio commentate iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli ciao a tutti